salve cari amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffita di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi vi parlo dei capolavori della letteratura il paprino del conto di monte cristo gruppo editoriale gd in edicola in abbinata tantissime testate più che del volume in sé volevo dirvi un po qualcosina della collana e del perché mi piace come concept e perché l'acquisterò tutta quanta nella sua interezza partiamo da una premessa molte di queste storie alcune di queste storie potrei avercele nella prima edizione delle grande pro di disney che ho non in versione completa ma ho diversi numeri in qua e là le parodie disney sono tra i miei generi letterali preferiti non è un genere letterale però tra i fumetti disney le parodie sono tra le mie cose preferite mi ci sono buttato da giovanissimo ho letto un sacco di parodie disney in albetti singoli in qualche ristampa e le ho sempre apprezzate e mi hanno sempre permesso di avvicinarmi e di apprezzare ancora di più le ore di italiano a scuola quando ero bambino quando si parlava per l'appunto di quei classici della letteratura che io magari conoscevo nelle loro parodie e nelle quali potevo riscontrare per l'appunto similitudini e differenze tra l'opera originale che per l'appunto mi veniva spiegata a scuola e la parodia che avevo già avuto modo di leggere a casina mia tra le mie letture quindi letture consigliata questa principalmente per tutti dedicata veramente a tutti straconsigliata a chi ai più giovani che magari si vuole invogliare iniziare a leggere i classici della letteratura ma anche ai lettori un pochettino più datati che conoscono quindi certi classici e vogliono rileggerli in una chiave un pochettino più divertente ilare in una collana che devo dire a me è piaciuta dal punto di vista estetico dal punto di vista della carta abbiamo una buona rilegatura una carta forse ma neanche troppo sottile un buon peso la collana è in realtà una ristampa di una vecchia collana che è classici della letteratura della del corriere della sera uscita nel 2012 in questa versione brossurata e prima in una versione cartonata nel 2006 se non ricordo male 2005 2006 e questa nuova collana è apparentemente visti i titoli del piano dell'opera presente nell'ultima pagina nella seconda ala la ristampa totale di questa che è una versione allungata della versione cartonata a livello però di contenuti siamo esattamente lì sono gli stessi identici quasi gli stessi identici contenuti se vogliamo visto che rispetto perché nel primo numero di tutte e tre le collane che sono tutte e tre diversi credo che il primo fosse i promessi paperi però potrei sbagliarmi in pieno qui abbiamo il canto di natale qui abbiamo il conte di monte cristo ma abbiamo in tutte e tre io ho solamente questo però è evidentemente un editoriale iniziale che parla della letteratura e dei fumetti è proprio un editoriale di presentazione della collana identico similare in realtà tra questo e il canto di natale manca una parte dove si facevano delle differenze delle analogie tra le parodie con l'ambientazione di riferimento della parodia e invece quel tipo di parodie come il conte di monte cristo che in realtà è un riadattamento in chiave contemporanea per l'appunto dell'opera di letteraria di riferimento perché mi piace questa collana perché oltre alle storie a fumetti che potrebbero andare a gusti qualcuno potrebbero potrebbero piacervi altre potrebbero non piacervi questo primo numero non mi sento di consigliarlo in realtà come esempio lampante di parodie perfettamente riuscite perché paperi in girandola non è che mi abbia fatto impazzire più di tanto il conte di monte cristo è una storia bella riuscita però forse potrebbe non incontrare il gusto del lettore più giovane io sarei partito con qualcosa di un po più leggero un pochettino più apprezzabile anche dai lettori più giovani per poi arrivare a classici come questi dove le storie sono un pochettino più datate e la cosa si avverte però l'ho accettato molto volentieri perché mi è piaciuta questa collana per gli editoriali l'editoriale del conte di monte cristo consta di sette pagine e presenta tutta la storia come potete vedere qua c'è tutta la storia nella parte qui in azzurro abbiamo uno stralcio del libro per appunto il conte di monte cristo e le vignette che si che potete vedere hanno delle didascalie in verde che spiegano le similitudini e le differenze tra l'opera originale quindi il conte di monte cristo e la parodia paperino conte di monte cristo dopodiché comincia poi effettivamente alla parodia vera e propria in questo caso qui come vi dicevo è una parodia ambientata ai giorni nostri siamo nel 1950 1960 storia del 57 quindi siamo nel 57 ma abbiamo situazioni simili a quelle del conte di monte cristo con un paperone un gastone che si alleano per screditare paperino in una certa maniera che finisce in prigione che si deve liberare che si deve vendicare la stessa trama del conte di monte cristo semplicemente attualizzata l'ultima storia del volume non paperin girandola che in realtà ma da come l'ho letta la storia nell'editoriale e per come e poi la parodia è molto fedele alla storia quindi ci sta alla grande come parodia e mi è piaciuta tanto ma l'ho trovata un pochettino pesante da leggere l'ultima storia è la carmen la storia della carmen non so in che periodo storico venga elaborata in cui si svolge direi comunque che i nostri paperi sono vestiti sono in costume come se fossero per l'appunto all'epoca della carmen stessa quindi storia con ambientazione storica diciamo bella riuscita anche questa e sul finire dell'albo abbiamo gli editoriali che riguardano invece le vite degli autori alexandro ma albert robida e prosper merime dal secondo numero in questo caso qui forse perché non c'era tempo e spazio sono inseriti nel secondo numero che per l'appunto l'inferno di topolino numero straconsigliato abbiamo anche le biografie degli autori disney con questo sfondo giallo quindi c'è anche una bella distinzione grafica mi è piaciuto tanto criticità di questi volumi ce ne sono probabilmente dipende molto dal gusto dei singoli lettori potreste non apprezzare certe parodie potreste non apprezzare certe storie va proprio molto a gusti certe parodie soprattutto le più datate lo sono magari per alcuni elementi non per altri quindi non è non è come le parodie più contemporanee come dracula come lo strano caso del dottor rat kill mr hyde frankenstein il pianeta del tesoro dei radici turconi non sono parodie fedelissime agli originali non sono adattamenti degli originali in una chiave disney ma sono magari storie che prendono spunto da e poi si riprendono molti elementi ma sono storia un po a se stanti sto pensando nel terzo numero dovrebbe essere legata all'odissea che ha un'ambientazione contemporanea credo anche la paperilia debba un'ambientazione contemporanea quindi non siamo a troia non c'è la grecia di mezzo non ci sono tutte quelle cose la paperopoli liberata è ambientata ai giorni nostri invece gerusalemme liberata è un classico della letteratura del medioevo con quell'ambientazione quella medievale quindi l'altra cosa che potrebbe essere una criticità per alcuni lettori sono le censure delle storie le storie selezionate infatti non sono nella loro edizione primitiva nella loro prima edizione con i test con questa edizione qui hanno tutti i testi rivisitati hanno i frontespizzi delle puntate successive alla prima mancanti quindi non è un'edizione da filologi è un'edizione più da battaglia più da lettura ma comunque a suo modo bella completa quindi per i filologi e per i puristi che vorrebbero un'edizione la storia così come era stata concepita non si troveranno questa cosa qui per tutti gli altri lettori mi sento comunque di consigliare l'acquisto di questa collana per avvicinarsi alla letteratura classica per far avvicinare alla letteratura classica e per anche istruirsi su tutta una serie di capolavori della letteratura che magari non abbiamo avuto modo di leggere e tipo per l'appunto nel primo numero c'è c'era paperin girandola parodi di saturnino girando farandola che non avevo mai letto e devo ammettere che è stata comunque una lettura piacevole nonostante uno stile un po datato ecco l'altra problematica che potremmo trovare per un lettore giovane è proprio questo stile un pochettino datato che potrebbe non essere di gusto proprio perché oggigiorno leggiamo storie che hanno dei ritmi una scrittura decisamente più veloce senza nulla togliere gli autori contemporanei ok ma è proprio lo stile che si è evoluto uno stile che può far sembrare datato le storie contenute all'interno di questa collana ma neanche più di tanto sono comunque tutte apprezzabili non ho fatto un elenco l'avrei potuto fare prima di fare questo video un elenco delle parodie che vi consiglierei a scatola chiusa ma così proprio andando a spanne il quinto numero ricordo che era il quinto perché ci avevo proprio guardato con i promessi paperi promessi sposi ve lo consiglio la grande vi consiglio guerra e pace vi straconsiglio il mistero dei candelabri sono i primi tre titoli che mi vengono in mente contenenti delle storie che a me sono piaciute tantissimo di cui magari non ho mai neanche letto la versione anzi non ho mai letto i poveri sposi sì però guerra e pace e i miserabili non ho mai letto le versioni cartacee ma ho sempre apprezzato tantissimo le barodie disney quindi straconsigliate sotto questo punto di vista l'altra cosa che potrebbe essere un problema ma che non vi faccio vedere perché non so quanto senso abbia dovrei proprio esporla in libreria mi pare di vedere che le costine non sono bene allineate quindi l'effetto finale sarà un po mosaico soprattutto nella fascia con i vari personaggi però ecco parliamo perché così dovrebbero essere anche abbastanza allineati bene però mi sa che non sono tagliati benissimo e quindi i volumi non sono in pari però tenendoli in mano non è una cosa che riesco a percepire mi pare di capire che potrebbero non essere bene bene in piano però questo non inficia la qualità del contenuto dell'albo che degli albi che sono come avete potuto vedere belli completi belli piene di cose da leggere parliamo di volumi da 7 euro e 90 da vecchia collana credo che stesse a 6 e 90 con 192 pagine quasi 200 pagine che tra editoriali e storia fumetti di cose ce ne sono il gruppo editoriale gd non l'ha mai fatto io mi auguro e incrocio le dita che voglia fare dei volumi successivi al quarantesimo con anche parodie più vicine più contemporanee perché ci starebbe fare proprio una raccolta completa di tutte le parodie uscite dal 49 quindi dall'inferno di topolino fino al 2020 con 20 mila leghe sotto i mari anzi 19 mila 999 leghe sotto i mari magari proprio escludendo quella proprio perché è molto recente però non credo che abbia questo possibilità e questi permessi io incrocio le dita me lo auguro detto questo è stata ovviamente consigliata magari mi faccio mi segno in un secondo momento quali sono le storie i volumi che mi sento di straconsigliare e ve lo lascio nello spazio commenti come primo commento evidenziato così che in ogni caso se avete dubbi domande perplessità resta disponibile qui nello spazio commenti anche per eventuali consigli detto questo da francesco i pancopop alle mie spalle dalla soffitto di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao